Allo stato degli atti non risultano corrisposte le provvisionali di risarcimento stabilite dal Tribunale di Milano con la sentenza del dicembre 2016, che ha condannato Roberto Formigoni per il caso Maugeri a sei anni di carcere, ma anche a versare 3 milioni di euro in solido con l'uomo d'affari Pierangelo D'Acco e con l'assessore Lombardo Antonio Simone alla Regione Lombardia. Lo spiega la Procura della Corte dei Conti Lombarda, che ha disposto il sequestro conservativo di circa 5 milioni di euro a carico dell'ex governatore e altri sequestri per un totale di circa 33 milioni di euro, con un danno erariale di circa 60 milioni. Nel disporre ed eseguire i sequestri, i PM contabili chiariscono anche che non hanno riconosciuto alcuna rilevanza alle confische disposte nel processo penale, di oltre 6,6 milioni a carico di Formigoni, perché quelle confische penali hanno una rilevanza esclusivamente sanzionatoria e non risarcitoria del danno pubblico. Inoltre i PM contabili hanno eseguito anche sequestri conservativi a carico di altri, tra cui l'ex faccendiere D'Acco e l'ex assessore appunto Simone, già condannati in sede penale. La montare nello specifico dei sequestri supera i 30 milioni, in particolare al termine di una complessa e articolata attività istruttoria, spiega la Procura Contabile, diretta da Salvatore Pilato, perché fondata sugli analitici e puntuali riscontri di contabilità finanziaria, integrati dalle fonti probatorie provenienti dai giudizi penali, con la fondamentale collaborazione della Guardia di Finanza di Milano, delegata ad eseguire i sequestri, i magistrati hanno definito gli accertamenti relativi al finanziamento da parte della Regione Lombardia della Fondazione Salvatore Maugeri, ento ospedaliero accreditato con il sistema sanitario regionale. Contestato, un danno erariale dunque di quasi 60 milioni nei confronti della Regione Lombardia, ed è emersa l'esistenza di un sistema illecito composto da soggetti interni all'amministrazione regionale, tra cui proprio l'ex governatore, e da soggetti esterni che hanno cooperato in consapevole concorso per la distrazione delle risorse economiche dalle finalità pubbliche. Il provvedimento cautelare, disposto dai magistrati, è stato limitato alle quote di profitto realizzate da ciascuno dai presunti responsabili, 5 milioni a Formigoni, 4 milioni all'ex presidente della Fondazione Umberto Maugeri, 4 milioni all'ex direttore amministrativo Costantino Passerino e 10 milioni a testa ad Accò e Simone.